Buongiorno. Oggi farò una breve presentazione di quelle lezioni che saranno tenute a fine giugno, e verranno offerte a tutti gli interessati della terza università, o eventualmente anche ad altre persone che conoscete. Questa lezione verterà una visita in Valle Brembana sui piccoli e grandi capolavori della nostra valle. La seconda, di tipo molto più lontano, verterà su una piccola visita ai due più grandi musei d'arte che si trovano a New York, il Metropolitan Museum e il Guggenheim Museum. Iniziamo con la visita ai nostri capolavori della Valle Brembana. In pratica si tratta di una piccola storia dell'arte attraverso una serie di escursioni che possono essere fatte in valle, dove di solito noi facciamo passeggiate di tipo naturalistico, ma invece per farvi scoprire com'è possibile anche fare qualche escursione legata alla visita di una chiesa, di una cappella, dove possiamo trovare dei capolavori spesso poco conosciuti. Quindi iniziamo a vedere qualcosa di questa valle. Qui c'è una cartina con dei percorsi, ma che ci interessa. Ecco per esempio, quindi farò velocemente vedere alcune possibilità, tanto per dare un'idea di quella che sarà la lezione, che verterà su temi di carattere di pittura, ma anche di architettura. Ecco per esempio, in questo caso vediamo un'immagine della foto parrocchiale di Sedrina, che di solito quando si passa sulla cavalcavia si vede di sfuggita, anzi si vedono le apsidi. In realtà se noi ci soffermiamo vediamo un capolavoro di un grande architetto veneziano che ha lavorato soprattutto a Venezia, ma anche a Bergamo, ma soprattutto in questa chiesa, ha costruito una facciata esemplare perché sostituisce ai classici timpani triangolari un timpano di forma arcuata e questa è un po' la nota, la cifra della sua architettura. Dentro questa chiesa c'è un capolavoro di Lorenzo Lotto, anche questo non molto conosciuto, non molto visto e quindi se ci soffermiamo per qualche minuto in questa chiesa possiamo vedere due cose estremamente interessanti. Se andiamo a vedere chiese più all'interno della valle, una delle chiese più ricche è quella di Dossena, dove si trova un capolavoro di un grandissimo pittore del Cinquecento che è Paolo Veronese, con questa decolazione del Battista. La chiesa comunque ha anche molti altri dipinti meno noti, meno famosi, ma è una piccola pinacoteca, quella di Dossena, che è un paese vicino a Serina. Ecco, qui vediamo invece una cosa abbastanza particolare, ci saranno anche queste occasioni, di vedere cose praticamente sconosciute. Questa è una frazione di San Giovanni Bianco che si chiama Allino e dentro questa frazione c'è una chiesa, dentro la chiesa c'è una piccola sagrestia che ai tempi fungeva addirittura anche da scuola per i pochi alunni e qui dentro troviamo una cosa che mi ha sempre molto colpito, tra gli altri affreschi pochi, cioè la prima rappresentazione di un nudo nelle nostre vali con Adam e Deva che compiono il peccato originale. Come vedete è una rappresentazione molto ingenua, molto elementare, ma anche molto curiosa. se pensiamo che siamo in una valle dove le prime manifestazioni di cultura artistica, pittorica, non vanno al di là del 1300 e qui siamo alla fine del 400. Il paese forse più ricco di note artistiche, il burgo più bello è questo di cui vediamo la chiesa, cornello dei tasso, ma di solito si vede il burgo, si vedono i portici, si vedono gli aspetti diciamo così più caratteristici del contesto, del rapporto tra il burgo e l'ambiente naturale circostante, ma in realtà dentro la chiesa ci sono anche lì degli affreschi, in questo caso particolarmente curiosi, oltre che importanti, in questo caso prevale la curiosità sul capolavoro ed è la rappresentazione di un anonimo pittore che rappresenta la bottega di un maniscalco, un maniscalco mentre ha compiuto un miracolo, Sant'Eligio, appunto il santo che è il protettore dei maniscalchi, questo santo riaggiusta una zampa di un cavallo che aveva avuto un incidente a cui si era rotta appunto la zampa, quindi una cosa molto curiosa, interessante, uno squarcio di vita del tempo visto attraverso una geografia del santo. E così è per altre, guardate per esempio questo è in realtà un capolavoro che potrebbe stare benissimo a Brera o nella nostra Accademia Carrara, vediamo, è un politico già attribuito a Cima da Corneliano, qui siamo a Ornica, che appartiene alla, non so se molti di voi lo sanno, appartiene alla diocesi di Milano, già dai tempi più antichi, nonostante poi sia diventato una parte dello Stato di Venezia, e in questo politico vediamo infatti subito lo stigma milanese per il fatto che la parte centrale è appunto quella che rappresenta Sant'Ambrogio. E così per altri, da ultimo come esemplificazione vi faccio vedere questo che si trova a Valleve, è un'annunciazione del Ceresa che per me è uno dei quadri più belli del Ceresa, in quanto troviamo associati l'elemento, diciamo, religioso, cioè l'annunciazione, che è uno dei temi più noti della nostra iconografia, dei Santi e del Vangelo, associato a dei ritratti di personaggi reali sicuramente di paese, con una Madonna e un Angelo che sembrano appena usciti da una passeggiata, diciamo, di paese dell'Alta Val Berbana. Quindi c'è questa ritrattistica applicata a un quadro in realtà religioso. Se andiamo avanti, passiamo all'altra lezione, quindi facciamo un volo oltreoceano, un po' per il gusto della varietà, perché io penso che, a parte l'approfondimento giusto in tutti gli argomenti che si trattano, però è anche bello, insomma, variare. Non c'è solo il locale e non c'è solo il lontano, no? In questo caso è un tema che ho trattato già tre volte nella mia lezione, cioè far vedere come i grandi musei americani abbiamo un sacco di immagini e di opere di provenienza europea e, a differenza del nostro museo diffuso, ovvero della presenza in Europa e in Italia in particolare di opere che si trovano diffuse nel territorio, qui invece abbiamo una concentrazione eccezionale, un po' come il Louvre, in un solo grande museo che tra l'altro è una collocazione molto interessante perché, come vedete, a sinistra in basso è quell'edificio che si vede bianco sul verde del parco di New York e lì, appunto, vedremo come in realtà il Metropolitan sia costituito da, non da un museo ma da decine di musei diversi per te, per argomento, oppure anche per donazione perché nei musei americani è importantissimo il mecenatismo privato di grandi, ricchi, che dopo aver fatto soldi a palate si dedicavano alla raccolta di elementi artistici anche per darsi, diciamo, una elevazione di carattere sociale che si poteva ottenere di più attraverso la cultura e questo è il Metropolitan. Ecco, il Metropolitan poi non è un museo di arte antica o di arte moderna, è un museo dove c'è tutto. C'è addirittura un tempio egizio completamente trasportato all'interno del museo quindi vedete il tempo egizio mentre guardate fuori e vedete Central Park. Poi capolavori assoluti che magari noi vediamo poco perché sono in America, cioè questo Caravaggio, per esempio, questo bellissimo Caravaggio con i musici, però ecco, si passa dall'arte antica o archeologia, si passa, come vedete, a un impressionista, questo è Monet, una terrazza Le Havre, uno dei quadri più famosi di Monet, a Van Gogh e altre opere di fine ottocento, tra cui questo famosissimo che tutti forse abbiamo visto, l'Isola dei Morti di Böckling. Il museo del Metropolitan ha anche questa particolarità che forse non tutti conoscono, che c'è una sezione staccata del museo attraverso la quale entriamo in una situazione per noi europei in un certo senso paradossale, perché troviamo un pezzo di Europa, ovvero pezzi di chiese, pezzi di chiostri, portali, archi, che sono stati smontati da edifici europei, soprattutto Francia e Spagna, ma anche Italia, e poi sono stati portati in questa zona, diciamo vicino a New York, ma fuori dalla città, quindi richiede anche un po' più di tempo per allontanarsi, un paio di, qualche fermata di metro, e si va a vedere un pezzo di Europa a New York, con anche dei portali di chiese italiane che sono stati nell'Ottocento smontati e rivenduti, con un metodo che oggi noi definiremo sicuramente da vandali, ma che tutto sommato oggi, ormai, fa parte della tradizione per cui anche gli americani in fondo possono avere un'idea di quella che era l'Europa nel Medioevo. Poi faremo un salto, ecco, io ho intitolato proprio questa presentazione una passeggiata sulla Quinta Avenue, perché in questa strada troviamo praticamente i musei più importanti di questa grande città, e tra i due, appunto tra gli altri musei, perché vicino c'è anche il Museo di Arte Moderna, lì a pochi passi, a pochi centinaia di mesi, ma io mi soffermerò invece su un altro museo, che è quello che vedete, il Guggenheim Museum, che è forse dal punto di vista architettonico il museo più famoso al mondo, come vedete ha una forma del tutto particolare, una pianta circolare con una forma che sale dal basso verso l'alto, diciamo ha una specie di cono invertito, quindi una forma assolutamente innovativa, ed è collocato a New York in mezzo a tutti gli altri edifici senza nessuna relazione con il resto della città. Ma anche questo è una cosa, diciamo, interessante e anche in un certo senso contrastante con le teorie che noi oggi abbiamo, cioè quella di tenere presente il contesto, insomma. In realtà Wright ha fatto questa scelta e questa scelta è diventata un capolavoro di architettura che viene citato su tutti i libri di architettura, su tutti i libri che parlano di architettura museale e quindi la gente va a vederlo sia perché l'architettura è veramente un unicum, ma quando si sale verso l'alto si percorre questo spazio aperto e si vede contemporaneamente l'architettura e la luce che illumina questa salita, ma poi all'interno delle murature, quindi mentre si sale, quindi una specie di percorso anche oltre che fisico, anche mentali, si vedono opere di grandissima importanza, anche qui opere che noi europei ci stupiamo, no? E andare a vedere queste cose che magari, per esempio, in Italia facciamo fatica a vedere, no? Per esempio un Cézanne, per esempio Kandinsky, ma Kandinsky per esempio è uno dei musei che ha più opere di Kandinsky, però anche Picasso, questo Picasso del periodo blu, per esempio, quindi è un percorso di storia dell'arte moderna e veramente eccezionale. Miró, Modigliani, quindi italiani ci sono sempre e in questo caso, anche in questo caso, il capolavori è il nostro dechirico, quindi si può fare veramente una visita con un percorso di storia dell'arte tra i capolavori assoluti della nostra cultura diciamo europea, occidentale, anche se poi, ecco, non ho detto nel Metropolitan, per esempio, c'è uno spazio enorme anche dedicato a culture non europee e a culture diciamo asiatiche che sono parte, diciamo, del patrimonio dei musei americani. Ecco, spero di avervi dato un'impressione, diciamo, del percorso che faremo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto a fine giugno. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.